La voce interiore attraverso Roberta S. a cura di Vubi guide. La situazione economica del vostro paese vi può riguardare o può non riguardarvi a seconda di come vi immergete in quella vostra dimensione sociale. Potete scegliere di starne fuori o di viverci dentro e nella scelta cambieranno molte cose intorno a voi e se ora credete di non poter fare questa scelta è semplicemente perché non vi siete accorti di quanto il vostro pensiero incida su tutta la vostra esistenza. Allora guardate con attenzione quello che la vostra mente vi suggerisce. Guardate cosa i vostri pensieri fanno della vostra vita e come vi mettono in rilievo di fronte a certe situazioni. Ogni volta che vivete una situazione convinti di saperla superare voi quella situazione la superate al meglio. Ogni volta che vi sentite vittime di una data situazione voi quella situazione la subite e in questo modo la rigenerate e la ricreate in voi. Questo avviene finché la vostra forza non matura quella consapevolezza di non aver bisogno di sentirvi piccoli e di non aver bisogno del senso di impotenza che in realtà non vi può appartenere perché in quanto esseri umani siete liberi di muovervi e di spaziare con la vostra energia in tutti i campi in qualsiasi momento della vostra esistenza.